Rottini, dal 1960 nel settore del calcestruzzo. L'azienda Rottini lavora nel settore del calcestruzzo, affermandosi come una delle migliori del comparto, grazie a un sistema aziendale costantemente monitorato e aggiornato, a un controllo dettagliato del processo produttivo, a un parco macchine efficiente e tecnologicamente avanzato e al personale competente e qualificato. È attenta alle esigenze dei clienti e alla tempestività del servizio. Cave Rottini opera in questo ramo da molti anni attraverso un impianto automatizzato, fornendo calcestruzzi durabili e a prestazione garantita, speciali e alleggeriti con certificato FPC, pompaggi in elevazione, pavimentazioni industriali e stampati. Effetto ha inoltre demolizioni civili e industriali, scavi e sbancamenti, recupero di rifiuti edili, grazie a una propria piattaforma a recupero autorizzata. Si occupa anche di fornitura inerti con certificato CE, terra vagliata per giardini sempre asciutta, frantumazione e commercio di sabbia, giaia e pietrisco di produzione propria. Tutto il materiale è selezionato dall'azienda attraverso impianti tecnologicamente avanzati.